Mi sono sempre chiesto cosa sia per me il calcio. Non è solo un gioco, è una macchina per sognare. Dove gli spettatori condividono le stesse emozioni. Attesa, gioia, delusione, tensione, divertimento. È come una grande famiglia in cui tutti si preoccupano dalle stesse persone e sperano le stesse cose. Voglio essere il protagonista di quello che sarà uno spettacolo unico. Si va in cena. Grazie per la visione.